Sale a dismisura il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che rappresentano una criticità diffusa in molte città italiane, creando problemi sia ai cittadini e sia ai turisti intenzionati a trovare un posto per le proprie auto. Questi parcheggiatori operano infatti presso le aree di sosta gratuite o a pagamento e di frequente anche nelle aree non consentite, richiedendo in cambio della loro attività una sorta di mancia all'automobilista. Quest'ultimo può agire dando qualche moneta al tizio oppure rifiutare, ma con il timore che in alcuni casi il parcheggiatore possa vendicarsi graffiando o rigando la vettura. E' quanto accaduto presso il centro commerciale Le Colonne di Brindisi, quando una donna ha allertato il comando di polizia locale per essere stata prima avvicinata da un cittadino extracomunitario che richiedeva insistentemente del denaro e dopo al rifiuto della donna il parcheggiatore abusivo l'avrebbe minacciata di danneggiarle l'auto. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l'uomo a bordo di un autobus di linea e invitato a scendere dal mezzo per identificarlo. L'extracomunitario però si è rifiutato, andando in escandescenza, urlando e in vendo contro gli agenti. E' riuscito anche a darsi la fuga, ma è stato prontamente fermato all'interno del centro commerciale, subito dopo un breve inseguimento. Una volta bloccato, ha iniziato a scalciare, aggredendo anche con morsi e pugni gli agenti intervenuti. Tanto che due di loro si sono anche recati presso il pronto soccorso dell'ospedale Perrino per le cure del caso. La situazione, ovviamente, ha creato panico e scompiglio tra gli avventori del centro commerciale, in cui c'erano anche numerosi minori. L'uomo, un nigeriano di 25 anni senza fissa dimora, è stato condotto nel comando di via della torretta e identificato tramite il permesso di soggiorno. Il magistrato di turno, Luca Miceli, ha disposto la denuncia a piede libero per resistenza, aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale e gli è stata anche contestata l'attività di parcheggiatore. In corso di approfondimento, l'indagina anche per il reato di estorsione. Nella maggior parte dei casi, i parcheggiatori abusivi sono persone disperate, in evidente difficoltà economica. In alcuni casi, però, si tratta di affiliati ad un qualche clan appartenente magari alla criminalità organizzata e i proventi servirebbero per finanziare proprio lo stesso clan, così come risulta dagli atti processuali. Ad ogni modo, è una situazione intollerabile che sta sfuggendo di mano e maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine sono ormai obbligatori, proprio per tutelare la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità.